ho imparato che dobbiamo imparare a dosare la nostra energia che se chiediamo troppo alla nostra macchina del corpo oppure se la facciamo lavorare male allora anche i pensieri ne usciranno acciaccati dobbiamo avere sempre maggiore cura di noi stessi farlo aumenta anche il benessere collettivo la mia madre dice che si chiede la guitarra e si chiede la guitarra e si chiede la e io ero come no madre non faccio questo e le persone dice ok ora giocare per noi e io ero come per me io giocare per me, io singe per me ma poi devi andare a capire tutte le problemi che face le persone stanno a te quando sei cantare e tu fai questo molti volte e tu fai avuto tutto questo schienese ma in ogni modo quindi hotel california hotel california hotel california Oh, sì! Oh! 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 Go Dad! Go for the Eagles, Hotel California, 1977. 1977! It's up, it's up! Uh, yeah. Go to me! Go to me! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.